Lo sforzo maggiore che abbiamo fatto in questa settimana che abbiamo alle spalle ha riguardato innanzitutto le procedure di semplificazione. Il Governo nazionale ha deciso delle cose anche importanti. 700 miliardi, il MES europeo che sarà a disposizione, chiariamo bene due cose. C'è stata in queste settimane l'idea che quello che si anticipava non dovesse essere più restituito. Capiamoci bene, i contributi che arrivano, il credito che viene erogato può essere alleggerito degli interessi ma alla fine va restituito. Vorrei che non ci fossero equivoci. Quello che decidiamo noi sono contributi a fondo perduto sulla base di una linea semplice che ha adottato la Regione Campania. Pochi, maledetti e subito. Vi diamo il contributo, vi arriva a casa, punto, discorso chiuso. Queste misure nazionali avranno tutta una serie di complicazioni. Se si prevede credito agevolato alle imprese, si dice dobbiamo passare attraverso le banche, le banche devono fare l'istruttoria, ma prima che una banca faccia l'istruttoria a decine di migliaia di imprese, prima di tutto c'è un problema proprio di carichi di lavoro, ma le banche non credo che faranno istruttorie superficiali. Quindi ho la paura che queste risorse come credito agevolato alle imprese arriveranno fra mesi. Noi abbiamo fatto un'altra scelta che si aggiunge a quella nazionale, per l'amor di Dio, quando arriverà il credito agevolato, tanto di guadagnato. Noi abbiamo lavorato per portare da subito risorse nelle imprese e nelle famiglie. Grazie. 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 Grazie.